Immagini, video, abiti di scena, i backstage, le sceneggiature, ma soprattutto Napoli. È la città la grande protagonista della soap dei record della televisione italiana Un Posto al Sole, che festeggia i suoi primi 18 anni con una mostra fotografica ospitata in uno dei luoghi simbolo della città, il Castel dell'Ovo. Si chiama 18 e non li dimostra l'esposizione aperta gratuitamente al pubblico fino al 30 maggio. L'idea al centro del percorso è lo scorrere del tempo nelle storie di Palazzo Palladini, ma sono anche tanti i riferimenti al rapporto forte con il sociale che la produzione mantiene costante attraverso i temi trattati, dalla confisca dei beni della camorra allo smaltimento illegale dei rifiuti fino alle vittime innocenti della camorra. Noi oggi abbiamo ricordato i 18 anni di Un Posto al Sole che fa parte come produzione non solo della nostra città ma del paese. Quindi un riconoscimento sentito e dovuto alle lavoratrici e ai lavoratori tutti, un grande augurio per il futuro e poi l'auspicio che si possa sempre lavorare di più sul centro di produzione RAI e raccontare Napoli in Italia e nel mondo attraverso anche Un Posto al Sole. Ma la mostra, allestita in collaborazione con l'assessorato al turismo, non è l'unica iniziativa per celebrare le 4.000 puntate della produzione. È stato infatti interamente rinnovato il sito ufficiale con maggiore interattività e spazio per i social network. Tra le novità annunciate all'inaugurazione, la notizia che Un Posto al Sole arriverà sicuramente almeno ai 20 anni e che sarà ripetuta l'esperienza del TV Movie realizzato lo scorso Natale.